salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sulla tech kit ho pensato di continuare la piccola serie che avevo iniziato poi non ho finito quindi iniziamo subito tagliando il legno facciamo prima la casa per tutti i macchinari che deficienti non posso dire di legno ok maiali ok abbiamo anche meno mod così si fa anche meglio non proprio tante meno però ce ne sono un bel po' di meno le tecchette normale confronto tutti gli altri allora così i macchinari si faranno anche prima questo 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 è oggi utilizzo anche la nuova intro per minecraft vedrete più in là oddio che strano come si vede non c'è la race minima che è molto utile però mi serve un po' di stone quindi raccogliamolo ma non c'è che è quello ci 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 Spapoliamolo, lo sai vieni di spapolo, la maledizione del gombo. Tutto mezzo disintegrato qua, il computer, è Alessio, è io, che ne so come si fa, ma che gioco è Ale, ah è Tomb Raider, dopo devi vederci i giochi Ale, capito? Vuoi vederti giocare? Non sono ebreo, non mi pare di essere ebreo. Quanto bel carboncino. Voilà, ho preso tutto, l'esperienza me la prendo perchè è comunque utile. Oddio, mi sono riuscito a fare un livello, cioè ho fatto mezzo livello con una sola cosa, con una sola palletta di esperienza. Stiamo giocando al nascondino? Ah no, te lo vado. Dove l'ho nascosta la carne? Ti troverò. Oh, è un genio sto maiale. E cadi? Se non cadi muori. Ok, l'hai voluto tu. Oh. Oh. Ci siamo riusciti dopo anni e anni. Dov'è l'altro vieni? Dov'è l'altro vieni? Sei scappato fin laggiù, eh? Per nasconderti da navoro per te. Niente di carne. Vergognatevi. Sei zitto tu. Mi serve la barchetta per risalire sul fiume. Barchetta. la barchetta turu 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 calca babio per auto a me metto Oh Oh io ho risale molto fiume ma che discorso c'è un grazie di passanti ora sto a fare il video che è il bruto del pisello ora sto a fare il risultato ora sto a fare il risultato ora sto a fare il risultato rompiamo un po' qua un po' di qua di qua di qua ok quindi abbiamo scoperto che non dovrebbe servire a niente se non sbaglio però metto sempre il waypoint no mettiamo nero visto che è nero insomma ok raccia nera ma è lava in realtà non è raccogliere, è vulcano però e quelle sono mucche dove scappi? maiale è una mucca però ribalta la mucca non mi può fregare di meno sì, io allora questo c'è un bimbo bimbo le sfilate le sfilate da madre madonna soppiati di loro hello soppiati di loro i tacchi 12 quindi ok bene, bene, bene iniziamo con la fornace e qui se dede un titolo su surf una croce Allora no Una dire più tardi Magari Allora carne cotta Stai zitto Stai zitto Minchione Transettone Dei Transettone T'hanno visto sulla spiaggia Che facevi? L'Uvucumbra? Sì tu Mi tradiscevi Non c'è neanche una pevora La voglio scannare Ragazzi ci vediamo al prossimo video Mi sono notificato No c'è neanche una pevora No c'è neanche una pevora